Allora, la base di partenza è questa il movimento più elementare, questo sono i bambini piccoli spingono e poi leggono controllo da questo movimento passiamo a questo movimento a questo movimento e fin qui è abbastanza facile, ma già cominciamo a fare qualcosa di più ordinativo poi a questo punto l'altro regisce quindi questo voglio farlo, allora lo studiiamo il passaggio sotto la testa e poi ad arrivare sopra, giusto? bene voglio vedere un'altra partiamo prendendo tutti e due i vari all'interno come nella tecnica prima, azione e relazione poi lì fino sotto, questa è un'altra passaggio a finire sul collo giro e arrivo in questa posizione è chiaro siamo qua allora guardate bene eh prendo i balleri dall'interno cioè dall'esterno ok? sollevo quando reagisce all'assio basso mi infilo sotto con la mano va intorno al collo giro e arrivo sopra bene, vediamo se riuscite a darlo l'altro forza!